Cosa? Come? Cosa? Pinkie Pie, che cosa pensavi di fare? Ho paura di aver esagerato So quanto è importante per te che le tue amiche del cuore possano diventare anche le mie amiche Ma purtroppo credo che non sarà possibile Quindi forse è meglio che ora me ne torni alla cava di pietre e passi là il resto della settimana È stato bello conoscervi, mi rende felice sapere che siete sue amiche Ma non siamo nemmeno riusciti a fare le nostre collane di caramelle Aspetta, Maud, vengo via con te! Non riesco a credere che Maud se ne voglia andare E io che abbiamo rischiato di perdere Pinkie Pie su quel ridicolo percorsa ostacoli Per fortuna Maud l'ha raggiunta in tempo e l'ha salvata E l'avete notato quanto è stata veloce? Certo, e anche il modo in cui è ridotto in briciole quel grande masso Mai vista una cosa così in tutta equestria Pinkie Pie era in pericolo Maud muoverebbe mari e monti pur di proteggerla Ragazze ci sono! Finalmente ho trovato una cosa che abbiamo tutte in comune con Maud Qualcosa degna di un'importante e super speciale tradizione Che si può condividere solo con le amiche migliori e più care Grazie per essere venuta con me Non so quanto dovrò star via per il mio dottorato sulle rocce Ma sono contenta di stare un po' con te prima della partenza Lo sono anch'io E mi spiace di averti deluso e di aver combinato tanti guai Io volevo solo che le mie amiche conoscessero la mia fantastica sorellona Che cosa ci fate voi qui? Volevamo scosarci per averti delusa perché non siamo riusciti a diventare amiche di Maud E Maud ci dispiace che tu abbia sentito l'esigenza di andartene da Ponyville per timore di offendere tua sorella Proprio così Adesso abbiamo capito quanto ci tieni a Pinkie Pie Sei stata grande Per noi la felicità di tua sorella è importante quanto lo è per te E ci dispiace non averlo capito subito La cosa che ci accomuna è che crea un legame speciale tra di noi E' l'amore che proviamo tutte per Pinkie Pie Oh sciocchine Per me questo basta e avanza per diventare buone amiche Sei d'accordo Maud? Sì certo Che c'è adesso? Scusaci mia cara ma sinceramente noi ci aspettavamo un po' più di entusiasmo da parte sua Che cosa? State scherzando? Io non l'avevo mai vista più elettrizzata di così Non so se l'avete già notato ma di solito io non mostro il mio entusiasmo allo stesso modo in cui lo manifesta mia sorella Ah l'abbiamo notato E ti assicuro che per noi va benissimo così Sì Ha ragione Maud vorremmo regalarti qualcosa da portare con te In questo modo ti ricorderai delle tue amiche di Ponyville Vi ringrazio molto Cerca di non mangiartele tutte prima della partenza Quelle sono tutte le collane che ti ha mandato Pinkie Pie E non ne hai mangiata neanche una? A me non piacciono le cramelle Ma voglio un mondo di bene a Pinkie Pie Ma voglio un mondo di bene a Pinkie Pie